3, 2, 1 e liftoff, liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket Lancio riuscito, la NASA entra in una nuova era con precisione assoluta le 2.35 ora locale partita dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida la capsula Dragon della compagnia privata SpaceX primo volo operativo commerciale della storia operato dalla NASA e diretto alla stazione spaziale la missione è denominata CRS-1 e prende il nome dal contratto Commercial Resupply Services da 1,2 miliardi di dollari in forza del quale la NASA ha acquistato dalla SpaceX un pacchetto di 12 voli commerciali per portare sulla stazione spaziale materiali, pezzi di ricambio e rifornimenti per l'equipaggio il prototipo della Dragon aveva già raggiunto la ISS per il suo volo di collaudo nel maggio del 2012 dimostrando la capacità del nuovo veicolo, il primo privato ad aver mai raggiunto la base orbitante a effettuare missioni operative in prospettiva anche con equipaggi umani dopo il pensionamento degli Space Shuttle infatti in attesa del completamento della nuova navetta Orion la capsula privata Dragon sembra essere l'unica alternativa per la NASA l'utilizzo abbastanza oneroso delle Soyuz russe per poter trasferire i propri astronauti sulla ISS anche perché al momento la Dragon è l'unico cargo spaziale in grado di rientrare sulla Terra portando indietro materiali ed esperimenti scientifici completati tutte le altre navette infatti dal Progress Russo alla TV europeo si disintegrano rientrando nell'atmosfera